e quindi era un'occasione importante per mettere insieme formare una nuova figura professionale altamente specializzata nel campo della produzione digitale e l'obiettivo del corso di aggiornamento professionale Creative Digital Production Web Cinema TV organizzato dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università Luigi Vambitelli con sede ad Aversa in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo J1 Service and Security ed ABC Digital Alla presentazione hanno partecipato Ornella Zerlenga, Direttore del Dipartimento di Architettura Danila Iacazzi, Direttore del Corso Luigi Credendino, Direttore del Centro Commerciale Giambo Francesco Cuciniello dell'Istituto Luigi Sturzo e Francesco Inglese, Referente di ABC Digital Il corso, della durata di sei mesi, è rivolto a ragazzi in possesso di diploma di maturità o iscritti a corsi di laurea triennali o magistrali e intreccia un approccio teorico e pratico rispetto a testi, immagini, suoni e video con le più innovative discipline informatiche Questo corso vuole lavorare nell'ambito della comunicazione vuole lavorare nell'ambito della sostenibilità della comunicazione quindi dei contenuti ma soprattutto lavorerà a braccio con aziende specializzate anche nel campo appunto del digitale dal punto di vista strumentale e questo potrà quindi dare una formazione completa ai nostri candidati rilascerà innanzitutto una certificazione di un livello di formazione universitaria e quindi sono dei crediti che possono essere riconosciuti anche per coloro che vorranno poi se non subito, in seguito, anche continuare con l'università Aziende del settore audiovisivo hanno una necessità specifica di figure professionali e il nostro intento è di coadiuvare l'attività con l'università e con i partner per fare in modo di ottenere delle figure professionali interessanti per questo mercato Il nostro apporto sarà quello di, oltre di dare parte delle sedi per questo corso e la relativa strumentazione sia in termini di hardware che di software sarà, diciamo, fornire anche un percorso di docenza per gli iscritti a questo corso di aggiornamento professionale che prevede la formazione di queste nuove figure professionali molto richieste da mercato soprattutto sul territorio campano che è in forte ascesa dal punto di vista della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi sia nell'ambito cinematografico che televisivo e multimediale